Ciao a tutti, in questo video voglio presentare una poesia di Ungaretti, Soldati. Soldati. Si sta come d'autunno sugli alberi le foglie. Allora, anche questa poesia, diciamo, senza il titolo, il titolo è parte integrante della poesia, senza il titolo non si capirebbe moltissimo. Il titolo dà un senso alla poesia. E ovviamente Ungaretti è stato molto segnato dalla Prima Guerra Mondiale, quindi attraverso questa esperienza ci fa capire anche com'è la precarietà della vita umana. Perché non solo i soldati stanno come d'autunno sugli alberi le foglie, ma ognuno di noi, perché, come dire, nulla da questo punto di vista è certo. E quindi, bene, per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramaschi, iscriviti al canale, iscriviti al nuovo canale, felicità e benessere, di cui ti posto i link in descrizione. Ciao a tutti.